Nella nostra società i bambini sono troppo spesso maltrattati e abusati. Se state ascoltando questo messaggio, non accontentatevi più di dire che i bambini sono carini e che li amiamo. Fate un passo in più e seguiteci per capire ciò che possiamo fare tutti insieme per prevenire i maltrattamenti infantili. La protezione dei bambini concerne tutti noi, dal ricercatore ai genitori, dal poliziotto all'assistente sociale, ai servizi dello Stato senza dimenticare la società civile. Tutti. Spero che anche voi vi sentiate coinvolti e deciderete di assistere a questa conferenza internazionale unica organizzata dall'Aspi il 23, 24 e 25 maggio prossimo. Non abbiate paura. Non mordiamo.